Angelo, dai, dai, che siamo in ritardo, dai! Sì, ma stai calma, non c'è tutta questa fretta Ma come no? Eh no, ma poi per che cosa? Eh, per l'Hotel Rouge Ma da quando? Eh, tutti i martedì alle 22.30 Ah, bene Eh, non lo sapevi? Eh, adesso lo sai Eh, adesso lo stanno anche loro Ciao Ciao